Bene ragazzi siamo tornati con un nuovo video qui sul nostro canale e questa è un'altra sfida Oggi faremo una sfida un po' diciamo carina, simpatica Come cazzo fare? Comunque Oggi praticamente noi abbiamo messo in questo bustolotto dei film, dei tori dei film Cosa devo fare? Io estrarò un titolo e in 5 secondi devo dire la trama del film Senza dire né il titolo né i protagonisti Un po' come tabù se qualcuno lo conosce La bravura dovrà essere sia mia nel dire più parole che hai possibili sia sua nel indovinare il film Esatto Abbiamo scelto i film famosi quindi comunque li sappiamo sicuramente sia io che lui E niente direi di cominciare subito Prima faccio io poi indovinerò, prima che indovina lui poi indovinerò io Noi abbiamo 5 secondi Avevamo un timer qua Qua abbiamo un timer Che voi vedrete qui in basso a destra Si, se riesco a metterlo E niente vado con il primo, prendo questo Allora il timer parte da quando io apro il coso Ok Aspetta Dimmi te via Vai Vai Allora lui per te ranciare agnatele Ehm 5 secondi sono passate Spiderman Lui praticamente C'è tagliato Perché non poto dire uomo ragno, capito? Così Che sbaglio Allora andiamo col prossimo Vai Ah si Allora la fine del mondo Lui scappa con l'aereo Poi con la nave Poi si incassa la nave E 2012 Vai Mazzote troppo forte Ehm Vabbè È una trilogia Ehm La DeLorean Ehm Ritorno al futuro Mamma mia ragazzi Che bestia Ma quello che farò io Lui non mi accercherà mai sicuramente Il numero 5 È Da due secondi Vai Ehm Navi Iceberg Titanic Mamma mia Mamma mia Che solo questo poteva capitare Perché vi ha Mamma mia Che potenza Che potenza Poi Ehm È una merda Ehm Ehm E qua ci stanno due film però C'è uno o è Fuga dei cervelli O è l'ultimo quello dei Ruffini Là Com'era Tutto molto Tutto molto bello Bravo Ammazza che c'è uno Uno dei due comunque Ehm Vai 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 Ehm Ragazza di fuoco Quella là Dove lancia con l'arco Angel Games Bravo Mamma mia Sa poco una bestia Ho visti tutti i film Tranne Due dei cervelli Non male 3 2 Vai Vai Dio E puggire Non parlare mai Ehm Rocky Rocky No Fight the club Ma vaffanculo Ma non è puggire Ma non è puggire Non parlare mai Non parlare mai Del fight Ho capito Puggire non parlare mai Il cazzo ne so Da Ma mi hai rovinato la cosa Prima regola Ehm Fatto Eh si Vai Vai Che cazzo è Giro a zera Vai E sto ferma è il casino Ci stanno tutti i livelli I sogni Ehm In session Dai Mamma mia Vestia Che hai fatto In session Lui casca ma in realtà non è cascato Ah i miei sono finiti Ne abbiamo fatti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei sette Otto E nove Sì Nove film E non seccati otto Perché lui Puggire non parlare Fai club per lui è quello Puggire non parlare Tiè Vai Allora Questi sono i miei film invece Prendiamo il primo Aspetta Aspetta Che cazzo Vai Ehm Vabbè Il mio tesoro Ehm Ah Cine da anelli Bravo Mamma mia Gran film Altro che Harry Potter Il signore dell'anelli Tu Che pensi che sia meglio Harry Potter Pezzo di merda Vai col secondo film Perché tu pensi che è meglio Harry Potter Sì Ma vaffanculo Non ho visto il cinema Ah Vai 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 Ehm Cane morto Ehm Vampiri Buio Ta 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 Dai Vorco 2 Non puoi non azzeccarlo Ma che è vampiri Cane morto Buio Ta 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 Ehm Da Con all duty Che cazzo Che ghost Dai Che era Io sono leggenda More il cane Vampiri Ma poi parti con un dettaglio del film Ho capito Cioè come che ne so Tra l'altro mi è cascato un film Vai Ehm Rapine Casino Tutti a Toroni Ehm Tutta Oh se anzi Leven Bravo Ammazza che coso 5 secondi e 06 Mamma mia Ecco il prossimo eh Oh questo è difficile Già lo sento Ehm Vai Ehm Quanti trantino Sangue Schiavo Nero Ehm Bang Bang Basta No Non te ne... Tu è il padrino Quanti in tarantino Ho detto Ah Non l'hai visto No Django Ah Django Agenda Sì No non l'ho visto No Ehm 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 Filantropo milionario Bayboy Dai a me Bravo Questa Era poco easy Vai Che è al contrario Ehm Guerra mondiale Salvataggio Cazzo Salvataggio Cazzo Cazzo Questa non vale Ho un culo A me Verona quello Ehm Droga Sesso Rock and roll Ehm Dai non fare coglione Che sta a dire film Ma sei stupido Ma che sta a dire Ho capito Ma è vero spontaneo Ho capito Un culo Droga Sesso Ehm Vai Mo dillo Indovina Ma guarda Ci sono pochi film Che trattano Ehm Ma appunto Indovina Ma secondo me È un film di Ci sta Brad Pitt Non lo so The Wolf of Wall Street Vaffanculo È vero Cazzo C'era Brad Pitt No infatti Non ho mai detto Che c'era Brad Pitt Sì Ehm Enigma Tatà Sangue Uccisioni Tatà Che c'entra So Bravo Grazie Che c'era Tà Poi Vabbè Sì Tu lo dai Come spiegare i film Eksenic Tatà 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 Ehm Solo così Se Troga Se sono Quello Vai Ehm 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 Baciamo le mani Ehm Stop Vai Il padrino Bravo Baciamo le mani Cazzo Ehm 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 Du negri Se sparano Bambam Poliziotti Tutta Casino Top Vai Bambam Tantam Bambam Se sparano Poliziotti Du negri Non me casca qua eh Non me casca qua eh Non fare il cattivo Non fare il negro come me eh Non fare il cattivo Non fare il cattivo ragazzo Tocco Peggio di così Non mi posso fare Meglio Cioè The Boys No Sì Ehm Seconda guerra mondiale Eri Tatatam Ancora Questo Tatatam Cioè io capisco che è per l'arbor No Però Cazzo Cioè Cioè Una cosa che non comprende Tatan Una volta Un titolo che non comprenda Tatatam Ho capito Ma se io ti dico pure Che ne so Seconda guerra mondiale E non ti dico tatatam Vuoi sicuro il pianista Seconda guerra mondiale Aerei Tatatam Cioè Ma se io ti dico Seconda guerra mondiale Aerei E poi ti dico un cazzo Il pianista Allora è vietato dire tatantam Vai Vediamo col prossimo Deciapo Ma sono finiti Quelli dei veri mondiali Probabilmente Vai Ehm Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Ce l'ho Ce l'ho Che cazzo Stavo bene di tatantam Ma c'è trovo il cazzo Vabbè Azzer da rivalo Vai Vai E ragazzo Football Cambia scuola Pugni Spum pum pum Tantantam Che è Million door la baby Che cazzo C'entra Che cazzo Ma che cazzo C'entra Ragazzo Cambia scuola Pugni Never back down Beh Non me l'ho visto Vai Ehm Se stanno Dio Ne picava Miami Stop Ti ho detto La cosa Perché è Godzilla Che cazzo Ma che forza Che ne so Uno star nudisce E lui Mi chiede Sono Godzilla Fa una cosa del genere Scusami No vabbè Non ci posso credere No vabbè Credo quello che si trova Però non ho capito chi è E gli panici E gli panici E gli panici Scarface Sì Ma come cazzo C'è stato proprio L'ho detto Se star nudiva lui Che non aiutavamo mai ieri Vabbè Vabbè Abbiamo capito che lui Non è buono A dire le cose Però conosco tutti i film Però se volete Passate sotto In pagina Pagina Facebook Pam 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 E niente Lui ci vediamo al prossimo Spero che vi sia piaciuto Ciao 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 Ciao